Prevenire il bullismo e il cyberbullismo fra i ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie è una battaglia che porta avanti da tempo il Corecom attraverso tappe itineranti negli istituti scolastici abruzzesi. Questa mattina il presidente Filippo Luccia, l'istituto maestre P.E. Filippini di Pescara ha dato vita ad una vera e propria lezione su questo fenomeno e sui pericoli derivanti dai social network. Sono fondamentali perché ci consentono intanto di capire quello che sta accadendo nel mondo della scuola, di confrontarci con gli insegnanti e soprattutto scoprire attraverso gli occhi dei bambini quello di cui hanno bisogno per accrescere le loro competenze digitali, per poter anche accrescere le loro informazioni in termini di educazione civica e di confronto con gli altri. Noi ovviamente mettiamo in campo la nostra capacità di dialogo, di confronto, di formazione, di sensibilizzazione, lo facciamo attraverso gli strumenti straordinari, quelli della tecnologia, ma anche attraverso le pubblicazioni questa mattina abbiamo consegnato il libro Pasquale Squaletto Solidale della scrittrice Donatella di Pietrantonio è un modo per parlare anche con la loro lingua, quello della fiaba, del racconto, dell'illustrazione attraverso i cartoni animati e non è semplice però è noi un percorso che cerchiamo di fare sempre al massimo, col massimo impegno.